Aveva fatto perdere le proprie tracce nel 1998, quando in seguito a un provvedimento di cattura emesso dall'autorità giudiziaria tedesca in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti era diventato da quell'istante un latitante. Gaspare Calafato, 44 anni, era però tornato nella sua palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. Un dato sicuramente che non è passato inosservato ai carabinieri del comando provinciale di Agrigento e ai militari della stazione del paese. Troppi movimenti sospetti di persone a lui vicine e conoscenti del ricercato che da tempo, troppo tempo, non si faceva vedere, ma che negli ultimi giorni erano apparsi con molta frequenza. Tutto questo ha fatto insospettire non pochi militari che hanno predisposto diversi servizi di osservazione e pedinamento, concentrandosi in particolare in un'auto che girava per le vie del paese del Gattopardo, trasportando un uomo molto simile al ricercato. Dopo alcuni minuti la decisione di far scattare il blitz con varie pattuglie, proprio nel centro di Palma di Montechiaro, l'uomo, vistosi accerchiato e circondato, non ha posto alcuna resistenza, lasciandosi a manettare. Al 44enne è stato quindi notificato il provvedimento in questione, emesso dalla magistratura tedesca e dopo le operazioni di identificazione è stato subito trasferito in carcere. Grazie a tutti.